Come ricominciare a fare palestra dopo questa quarantena? Ciao, è finalmente arrivato il momento di tornare in palestra ad allenarsi. Sono Luca Dallavalle e con questo video voglio darti dei consigli pratici su come ritornare ad allenarti con i pesi dopo questo stop forzato. La prima cosa che voglio dirti è quella di evitare assolutamente di riprendere con l'allenamento che stavi seguendo prima di fermarti. In questa fase è infatti importantissimo dare il tempo al corpo di riadattarsi. Anche perché ci troviamo sicuramente in condizioni differenti da quelle in cui eravamo prima. Alcune persone sono riuscite ad allenarsi a casa a corpo libero o con piccoli attrezzi ma sicuramente usando carichi nettamente inferiori a quelli che erano abituati ad usare in palestra. C'è chi ha sospeso l'attività con i pesi per dedicarsi esclusivamente a quella aerobica, quindi con delle passeggiate, con la corsetta oppure con dei giri in bici. E chi, e spero sia una minima parte, ha sospeso completamente tutto e si è preso una bella vacanza. Quindi è importante iniziare in questa fase gradualmente e idealmente se eri abituato ad andare in palestra due volte alla settimana, ti consiglio di riprendere con due volte alla settimana. Se eri abituato ad andare con tre, di riprendere con tre, ma non è necessario che tu vada tutti i giorni in palestra per recuperare il tempo perduto. E' importante in queste prime due, tre, anche quattro settimane, dipende dalla tua condizione fisica attuale e da come risponde il tuo corpo, seguire un programma di allenamento che viene definito di riattivazione oppure di riadattamento. Questo tipo di programma solitamente prevede degli esercizi fondamentali, quindi i principali esercizi per i gruppi muscolari, con un total body, cioè con gli esercizi per tutto il corpo in un'unica scheda, cercando di non andare ad esaurimento muscolare nelle ripetizioni. Cosa vuol dire? Dobbiamo sempre lavorare a margine ed evitare il cedimento muscolare. Ti consiglio anche di fare un allenamento che duri al massimo un'oretta e non strafare, quindi cercare di recuperare allenandoti più tempo del previsto. Allora, visto che ti ho detto che era un video con dei consigli pratici, ho preparato due tipi di allenamento personalmente da utilizzare in questa fase. Allora, li ho divisi in allenamento A e in allenamento B. Se sei abituato ad andare in palestra due volte alla settimana, puoi fare prima un giorno all'allenamento A, il giorno successivo l'allenamento B. Se invece vai tre volte, ripeterai magari una settimana due volte all'allenamento A, mentre la settimana successiva due volte all'allenamento B. C'è anche una terza opzione. Visto che si tratta di un allenamento total body, quindi per tutto il corpo, puoi anche decidere di fare prima di tutto, sempre la prima settimana, sempre l'allenamento A, la settimana successiva l'allenamento B, sempre. Allora, passo a farti di vedere. Allora, questa è la scheda di allenamento A. In questa scheda, come vedi, a parte il riscaldamento e il defaticamento che vanno inseriti su ogni tipo di allenamento, ho previsto di fare per primi gli esercizi per le gambe, quindi della parte inferiore del corpo, mettendo uno squat. E poi la leg curl, che sicuramente anche chi si è allenato a casa non ce l'ha a disposizione. Gli addominali ho messo a piacere, è consigliato fare un esercizio per l'addome che non si è riuscito a fare a casa. Poi la panca piana, la lat machine, la military press con il bilanciere, il curl con il bilanciere e il push down per i tricipiti. Mentre nell'allenamento B, ho invertito, quindi prima faremo l'allenamento per la parte alta, anche qua vedrai che ci sono gli esercizi principali, quindi i fondamentali per ogni gruppo muscolare, quindi con il pulle, le distensioni con manubri su panca inclinata, la shoulder press, anche questa credo che molte persone non ce l'abbiano a casa, quindi è una stimolazione diversa del muscolo, la french press per i tricipiti, il curl con manubri in piedi per i bicipiti, anche in questo caso l'addome da fare con esercizi che non hai praticato a casa, gli affondi, preferibilmente farli in versione statica e la leg press. Ovviamente anche in questa scheda avremo prima il riscaldamento e poi il defaticamento. Quante ripetizioni fare? Consigliabile fare tra le 12 e le 15 ripetizioni perché sono un range di ripetizioni che danno una buona stimolazione muscolare e ripetere il tutto per tre serie. In questo, tra le serie, è anche consigliabile fare un recupero abbastanza abbondante, quindi tra un minuto e 15 e un minuto e 30, in modo da dare il tempo al muscolo di recuperare appieno le proprie forze e quindi evitare appunto il cedimento muscolare. Bene, ora che hai delle schede pratiche per poter iniziare la palestra, ma soprattutto con metodo e criterio, inizia bene il tuo allenamento, se vuoi puoi continuare ad allenarti a casa e in questo canale trovi già dei tutorial che ho realizzato precedentemente per continuare ad allenarti a casa o se hai bisogno dei consigli personalizzati, visita il mio sito e troverai tutte le informazioni su che modo io posso esserti utile e quindi aiutarti nei tuoi programmi di allenamento e per ottenere una miglior forma fisica. Ti ringrazio per essere stato con me, se ti è piaciuto questo video ti chiedo di condividerlo con i tuoi amici e magari iscriverti anche al mio canale, tanto è completamente gratis. Ci vediamo nel prossimo video e nel frattempo, rimane forte, rimane attivo. Ciao! Ciao!